capellata pazzesca vabbè signori e signore signorini e signorine signoroni e signorone oggi non ho voglia di fare il video non ho neanche non so neanche su cosa farlo sinceramente e quindi che facciamo ho un'idea hey siri si me lo fai tu il video scansa fatiche che non sei altro oggi parliamo di no brainer qualcosa che è un no brainer è un qualcosa che richiede un minimo ma minimo sforzo mentale per esempio un avvocato potrebbe dire this case is looking like a no brainer questo caso sembra un no brainer una cosa molto semplice che non richiede molto sforzo attenzione no brainer in alcuni casi in italiano lo traduciamo con ovvio once you compare the price tags it's a no brainer ok price tags vuol dire l'etichetta con il prezzo se tu compari si ci compari vuoi compare sei proprio un cretino quando tu compari le due etichette it's a no brainer è ovvio che scelgo questa perché perché magari ha una qualità migliore ed è anche il prezzo minore quindi it's a no brainer cioè non ci devo neanche pensare è ovvio che prendo quella lì switching to solar panels was a no brainer cambiare e prendere i pannelli solari è stato una no brainer non ci ho dovuto pensare tanto ok non era talmente ovvio era talmente conveniente in quel momento lì prendere i pannelli solari che non c'è sei un idiota basta però prendere i pannelli solari era talmente ovvio era talmente conveniente che it was a no brainer ok taking that job was a no brainer accettare quel lavoro è stato un no brainer cioè è stato ovvio non mi ha richiesto non è che mi sono messo lì a dire ma lo accetto non lo accetto lo accetto non accetto è certo che lo accetto è ovvio è talmente un buon lavoro che it's a no brainer l'ho preso quel lavoro lì il caffè della peppina non si beve alla mattina né con latte né col tè ma perché 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 cretino no 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 Grazie a tutti.